buongiorno oggi vorrei fare un brevissimo ragionamento come possiamo affrontare quelli che combattono diciamo alla spagnola tenendoci il ferro puntato in faccia e piuttosto alto come li affrontiamo un modo potrebbe essere quello di angolare da sotto al braccio io non lo ritengo molto sicuro perché mentre lo faccio la sua punta mi guarda vorrei proporre due alterne miglia la prima è da terza andare a prendere ferro di prezzo vado in primo mezzo cerchio mi abbasso il plegato potremmo usare un'altra alternativa secondo me potremmo legare il quinta usare un legamento di quinta da sciabola per poi girare la mano di prima in seconda e tirare a a ve entrambi ci dovrebbero garantire una sufficiente copertura secondo me